Abbiamo fatto più di 800 vaccini in due giorni e mezzo di lavoro grazie all'attività dei medici e paramedici e gli amministrativi dell'ospedale di Palermo con la collaborazione attiva dell'esercito italiano. Il dato importante, al di là del fatto che la campagna vaccinale va avanti, è che ancora adesso abbiamo fatto su 800 vaccini più di 130 prime dosi. Ciò significa che la campagna di vaccinazione di prossimità sta funzionando, aggredendo anche coloro che dopo un anno dall'inizio della campagna di vaccinazione ancora abbiamo deciso di non vaccinarsi. 130 prime dosi su 800 vaccini è un buon risultato. Nell'isola ci sono circa 360 bambini e abbiamo vaccinato in meno di un centinaio, quindi non è stata quella risposta che noi auspicavamo. Speriamo che nella prossima nostra missione, che sarà a fine mese e primi di marzo, chi non ha ancora deciso di vaccinarsi lo faccia, cioè chi non ha deciso di far vaccinare i bambini lo faccia e comunque saremo sempre qui per soddisfare le esigenze della popolazione.